ciao a tutti amici di youtube con voi rossi gamer e oggi farò una guida su come sopravvivere per primi giorni su mountain brave warband in modalità in modo normale inizio il nuovo gioco perché su quell'altro avevo usato dei trucchi per verificare alcune cose quindi ho preferito non usarlo creandoci il personaggio scegliamo la anche la tranne che le nostre skill iniziali scegliamo anche la difficoltà del gioco successivo ovvero come gli altri personaggi tipo gli altri lord o non so magari altri vostri amici che avete in futuro come vi tratteranno più alta scegliete l'opzione più più facile il gioco perché insomma provenite dalle dalla famiglia ricca avete magari anche un padre che era un già un lord o roba del genere però il mio consiglio è quello di scegliere le di fare queste scelte in base a quali modalità a quali skill vorrete avere in futuro perché guadagnarsi alla gloria poi per diventare un lord o anche un re non è che ci vuole più di tanto quindi inizialmente vi consiglierei di scegliere diciamo che sia la vostra vocazione quel che vorrete che vorreste fare dopo aver scelto la città e deve esservi creato il personaggio vi consiglio dopo aver ucciso o meno questo brigante che vi attacca vi consiglio di accettare la missione che vi dà il mercante perché a parte fruttarvi dei soldi è anche abbastanza facile quindi per iniziare diciamo è buona perché così almeno vi da sia l'esperienza sia sia un po' di soldi per il futuro inizialmente vi consiglierei di guardarvi nel inventario perché di solito vi danno delle armi abbastanza scarse quindi magari avete anche ecco un libro che ho ricevuto in base alle alle scelte che ho fatto all'inizio creandomi il personaggio le prime truppe vi consiglio di prenderle nei in questi villaggi qui perché a parte potete essere a parte costare poco sono anche abbastanza forti alle allenati più in là quindi possono anche essere presi in tanti se all'inizio vi imbattete nei briganti il mio consiglio è quello di se avete il cavallo va bene potete anche tentare di ucciderli ma se non avete il cavallo cercatevi una posizione abbastanza strategica per poter rallentare i nemici e poi in questo modo anche ammazzarli prima che magari arrivano a voi a rompere sperando che non hanno gli archi perché se no in questo caso è inutile sia attaccare con con il cavallo sia trovarmi una posizione ma se avete comunque abilità abilità in questo tipo di gioco non credo che troveressi problemi a affrontare questi banditi anche senza cavallo andando in giro perché sono questi qui sono nudi non hanno nessuna difesa e le loro armi sono scarse quindi c'è una buona probabilità di vincere come avevo già parlato all'inizio avevo cancellato l'altro account l'altro account l'altro profilo diciamo così perché avevo usato dei trucchi io ve li sconsiglio vivamente perché usare i trucchi fa proprio passare la voglia di giocare in questo gioco all'inizio sembra tutto bello di tipo wow che figata ho tutto sono magari sono anche diventato il real grazie ai trucchi però alla fine non sapete più che fare io pensavo che fosse una figata chissà quale usare i trucchi avrei tutto l'esercito gigante invece fa proprio schifo perché non sapete più cosa fare non sapete nemmeno combattere per bene che sarebbe proprio il senso di questo gioco e con questo ho ucciso anche l'ultimo brigante con la carica del cavallo praticamente li ho corso addosso con il cavallo ecco qui c'è il bottino diciamo così iniziale che sicuramente guadagnerete uccidendo la prima diciamo così la prima manciata dei nemici che vi va addosso io vi consiglio di prendere tutto anche perché a parte di sicuramente troverete della roba che è molto più forte di quella che avete già che vi hanno dato all'inizio è uno e poi potete venderla anche a buon prezzo a un mercante sia in questi qui in questi villaggi magari scambiandoli per delle risorse sia nei mercati delle città se avete un buon esercito anche se è piccino vi consiglio di attaccare tutti i banditi che trovate perché vi danno molti oggetti quali poi potrete utilizzare per guadagnarci le monete questo menu qui che vedete è molto utile per le battaglie quelle grandi quando non so magari siete 40 contro 50 e roba del genere perché qui questa mappa qui dove sto combattendo ora fa abbastanza schifo perché è tutto rilievi quindi è difficile usare gli arcieri e la cavalleria però se è una mappa piuttosto pianeggiante o magari mi trovo qui dove sto ora e i nemici vengono da laggiù da dietro di me è molto più utile perché qua su metto i miei arcieri tutte le truppe che hanno un arco magari anche delle pietre da lanciare li metto qua su e i nemici prima che arrivano saranno mitragliati dagli arcieri e quindi ci sono più probabilità che magari hanno pochissima vita quindi ci vogliono due o magari anche un colpo per ucciderli dato che siamo su in montagnetta mentre loro sono giù ci mettono uno ci mettono di più per arrivare su due noi potremmo avere più visuale del campo e perciò in questo modo possiamo anche diciamo così avere la gettata più lunga arriviamo più lontano da loro più lontano di loro e gli arcieri come ben si sa possono hanno più efficacia se sono utilizzati da non so magari dall'alto dalle torri o roba del genere infatti in difesa quando avrete sicuramente un castello vi consiglio di metterci soprattutto gli arcieri maxati oppure le difese come non so magari anche la fanteria maxata qui ora sono in un guaio perché questi sono gli eserciti che hanno sono le truppe che sono fuggite dall'esercito che hanno desertato quindi hanno l'equipaggiamento buono e sono anche abbastanza hanno abbastanza skill quindi sarà piuttosto difficile ucciderli soprattutto perché hanno gli archi dato che sto dalla parte della fazione nord è difficile ucciderli e sono abbastanza buoni con gli archi quindi credo che questa battaglia la perdo se se non riesco a ucciderli in questa maniera come sto facendo ora comunque se siete all'inizio il mio cioè vi consiglierei tanto di trovare questi eserciti qui anche magari molto più piccoli del vostro esercito attuale perché così se li uccidete avrete l'armatura di una truppa che hanno non so magari questi qui che sono gli arcieri veterani hanno gli archi buoni anche l'armatura che resiste di più che quindi se avete scelto l'arceria come tra le skill iniziali vi saranno utili i loro archi le loro frecce probabilmente ora muoio perché mi stanno mitragliando da ovunque ecco eccomi scappato dai banditi che mi hanno rapito quasi ucciso che hanno ucciso tutti i miei uomini e mi hanno rapito sono sfuggito e ora mi tocca riprendere di nuovo tutte le reclute per la missione iniziale del mercante bene direi che ho avuto fortuna ad aver scelto bene le mie caratteristiche iniziali perché a quanto pare mi hanno dato parecchio oro parecchio oro iniziale è un equipaggiamento abbastanza buono anche se ora l'ho cambiato un'altra cosa importante è avere sempre cibo perché se non avete più cibo il vostro esercito perde morale e quindi poi sicuramente molti scapperanno scapperanno quindi non so quanto vi conviene dato che l'esercito vi serve e non poco un altro consiglio che vi darei è quello di non mettervi al massimo tutte le truppe subito perché poi il salario delle vostre truppe sarà troppo alto quindi non ce la farete a guadagnare tanto denaro per sia pagare l'esercito che per per comprarne nuovo magari anche per potenziarlo o comprarvi dell' equipaggiamento anche del cibo quindi ve lo sconsiglio di potenziare subito tutti magari se avete solo una decina una ventina di uomini allora sì va bene si può fare così almeno attaccate quelli diciamo più deboli quegli eserciti più deboli e e allo stesso momento guadagnerete anche soldi perché vabbè l'esercito è piccolo quindi pagate poco anche se è ben sviluppato quindi vabbè il mio consiglio sarebbe quello di non di non farvi troppe truppe molto potenti perché diciamo costano e quindi farete sicuramente difficoltà a pagarle tutte e quindi avrete dei debiti è una cosa molto scomoda dopo aver finito la parte iniziale la prima missione non sapete sicuramente più che fare non sapete dove mettere mani il mio diciamo così il primo pensiero quello che dovreste fare e il mio consiglio sarebbe quello di trovare qualche preferibilmente re di una fazione di un regno e chiedergli una missione perché vi pagherà bene e i vostri rapporti con lui miglioreranno quindi se magari volete diventare il lord di quel regno allora se avete buoni rapporti con il re avrete più possibilità che vi dia un campo che so un villaggio o un un qualsiasi anche un castello la missione che mi ha dato questo è quella di trovare un uno che ha ucciso un uomo che ha ucciso un suo non so non so chi è ma insomma una persona cara a lui e quindi vi chiede di trovarlo che dandovi informazioni che sia nascosto in quel villaggio in quel villaggio laggiù e vi dirà di andare a cercarlo per trovarlo dovete per forza venirci di giorno perché di notte non c'è nessuno in giro e dovete gironzolare un po' per il villaggio perché lui è nascosto una volta trovato dovete ucciderlo e i vostri rapporti con il villaggio diminuiranno però vi dirà che la missione è stata completata e vi dirà di andare a riscuotere la taglia di solito per questa missione qui cioè di solito sempre per questa missione qui vi da 300 monete e con 300 monete potete farvi di tutto e di più ad esempio prendervi un esercito più grande e magari potenziarlo anche se avete tante truppe non molto forti di solito la rottura è quella di trovarlo e il mio consiglio è quello di girare ogni angolo del del villaggio e di di solito si nasconde quassù su nei diciamo così posti dove non nessuno verrebbe a cercarlo in villaggi del genere potrebbe essere sia lassù vicino al mulino sia laggiù tra i muri da qualche parte nascosto quindi vi consiglierei di andare a cercarlo ok quanto ho scoperto ho sbagliato villaggio che idiota come dicevo bisogna cercarlo nei posti quelli più nascosti meno probabili di trovare qualcuno magari è dietro le case o anche dietro dei ricinti e roba del genere quindi le prime volte è sempre difficile trovarli anche perché non si sa dove potrebbe essere qui dovete stare attenti perché se non riuscite a ucciderlo fallirete la missione e i vostri rapporti con il lord che vi ha assegnato la missione diminuiranno quindi è meglio se fate di tutto per ucciderlo per la missione Se nessun diarl vi dà una missione, il mio consiglio è quello di andare in giro per una città come Saragos o Tichro o roba del genere e parlare a questo mino qui che lo troverete in giro sempre però fermo in un punto della città. Parlandovi vi chiedete se ha una missione e qui ci sono davvero una bella varietà di missioni che potrebbe darvi. Questa parla della ragazza rapita che è una figlia di un suo amico e quindi vi dà dei soldi per andare a riscattarla. Se avete un buon esercito potete sconfiggere i banditi e tenervi i soldi del riscatto e in più tornando questo mino vi darà ancora soldi per aver portato questo messaggio, insomma per aver portato la figlia del suo amico. Per questo vi consiglio spenderci anche magari un po' di più di soldi e prendervi un bel esercito perché di solito quelli che hanno ripeto la figlia hanno un esercito di 40-50 uomini. Ora entrando in un villaggio ho trovato questi banditi, sono pochi e sono facilmente sconfiggibili, non so se si dice, e quindi vi consiglio di attaccarli appena li vedete anche quando, soprattutto, cioè quando avete un buon esercito. In più, in battaglia, da voi si uniranno i cittadini, i contadini del villaggio che è sotto attacco, quindi diciamo avete un piccolo rinforzo in più. Dopo aver vinto una battaglia vi appare questa schermata dove i cittadini, dopo che li avete difesi, vi propongono di prendere qualcosa dal loro ambar dandovi del cibo quel che hanno. Potete sia accettare, quindi potete prendere un po' di cibo, che di solito è poco, oppure rifiutare dicendo che serve più a loro. Rifiutando guadagnerete onore, che è molto utile per le quest e per le molte relazioni con altri lord nel gioco e nel futuro, però se siete all'inizio vi consiglio di prenderlo perché vi servirà per il vostro esercito. Questi che sono poveri non hanno niente, quindi me lo so preso nel sedere. Avendo a disposizione una buona quantità di arcieri, vi mostro la tattica che uso di solito per delle grandi battaglie nelle quali magari anche poche possibilità di vincere. Gli archi, come dicevo, vanno messi su una collina, così almeno hanno più raggio visivo e i nemici ci mettono di più a salire sulla montagnetta più che andare all'ingiù. Quindi anche se uccidono tutte le truppe di terra come stanno facendo ora, anche se le mie truppe di terra li stanno gonfiando, dicevo ci metteranno di più a salire, quindi hanno ancora un po' più di tempo per sistemare un po' di nemici. Magari anche indebolirli prima che arrivino su. Quindi poi passando alle armi da vicino li finiscono. Come dicevo, questi banditi sono di solito facili da uccidere perché hanno equipaggiamenti scarsi, anche se sono, non dico pochi, ma diciamo così medi. Quindi, però vabbè, il numero in questo caso non c'entra perché sono scarsi, quindi anche con i, insomma, magari con un po' più di arcieri, soli arcieri, oppure con una cavalleria riuscirei a sterminarli con niente. Qui in questo caso ho voluto registrare questa parte qui perché volevo mostrarvi la tattica che uso, che anche di solito usata, era stata usata nelle guerre vere, secondo me, che serve per, diciamo così, dare vantaggio a quelli che sono un po' meno forti o anche in svantaggio numerico. Un'altra cosa che sono utili gli arcieri è questa qui. Quando il nemico scappa, gli arcieri possono raggiungerlo da lontano. Per questo cosa, vabbè, è utile anche la cavalleria, però secondo me è molto più utile, sono molto più utili gli arcieri perché riescono a raggiungerli anche se sono, non so, magari stanno già per scappare, invece l'arcieri all'ultimo secondo lo ammazza. Per iniziare non vi serve una grande quantità di, diciamo così, di truppe perché gli unici nemici che avete sono i banditi, i rapinatori, i disertori e questa gente qui. Insomma, se avete, non so, anche 50 truppe come ora ho io, non vi fanno tanta paura, magari non vi toccano neanche perché vedono che siete di più, quindi se la fanno addosso. A volte nelle città vi troverete queste due nuove funzioni. Questa è sempre quella di entrare nel castello, però aggiungere, diciamo così, entrare e far parte della festa. Piggiandoci, se siete all'inizio e non siete conosciuti da nessuno, insomma siete nessuno, non vi faranno entrare dicendo che non siete degni, però avete la possibilità di partecipare al torneo, qui potete vedere chi ci partecipa, potete mettere una scommessa su di voi, che vencete voi e potete combattere nel round successivo oppure ritirarvi dal torneo. Io all'inizio, quando siete solo all'inizio, vi sconsiglio di mettere una scommessa sulla vostra vittoria perché non avendo abbastanza abilità con le armi è facile perdere, quindi magari iniziando, cioè all'inizio, quando siete solo all'inizio provate a vincere senza mettere la scommessa su di voi perché vincendo comunque il torneo vi danno un po' di soldi e se non sbaglio anche esperienza, ma vabbè, vi danno anche un po' di riconoscimento, cioè diventate un po' più famosi e vi dà più uno di relazioni con la città nella quale avete vinto il torneo. Di solito il torneo è abbastanza difficile perché ci partecipano dai lord ai, come potete vedere, ai mercenari che sono, diciamo così, unità con più skill del combattimento come armi una mano, armi due mani, eccetera, eccetera. La cosa che mi infastidisce di più del torneo è la scelta delle armi. Non ve li fa scegliere, ve li dà a caso, quindi potete trovarvi sia uno contro uno, come sarà tra le fasi finali, voi con una spada, una mano e uno scudo contro un nemico con la vostra stessa arma, come potete anche trovarvi contro uno che ha magari l'ascia e lo scudo come ora, contro di voi che avete soltanto un arco e un coltellino che in pratica non fa quasi niente di danno e non potete neanche parare. Qui ho avuto fortuna perché già dall'inizio mi ha dato delle armi buone, quindi ho avuto la possibilità di vincere. Non so se ora mi sembra che questo è l'ultimo round, se vinco questa battaglia qui ho vinto il torneo, quindi mi danno un po' di soldi e posso entrare a far parte della festa. No, ok, non era l'ultimo, mi sa che questa qui è l'ultima. La scelta delle armi, cioè diciamo così, le armi che vi assegnano varia dal regno al quale appartiene la città nel quale fate il torneo. Se è nel regno di Svadia di solito vi danno o un arco o una spada a una mano e uno scudo oppure vi danno il cavallo e la lancia con la quale potete fare, non mi ricordo come si chiama, ma insomma potete fare un enorme danno prendendo rincorsa con il cavallo e facendo andare giù la lancia. Una volta entrati a far parte della festa qui ci sono sia le donnine con le quali potete flirtare e nel futuro possono diventare le vostre moglie, quindi è una cosa abbastanza utile perché nel futuro, se avrete un castello o quando avrete un castello, le mogli sono utili per gestire le cose del regno, magari potete anche migliorare il vostro rapporto con un altro lord, oppure magari organizzare anche una festa nel vostro castello per successivamente aumentare la vostra fama e rapporti con i lord che entreranno nel far parte della festa. Iniziandoci a parlare avete diverse scelte, la prima potete chiedere dove si trova qualcuno, la seconda vi chiedete di chi sia, nella terza iniziate a flirtare dicendo che siete un ammiratore di questa donnina e di solito da più rapporto ma dato che non ho abbastanza persuasione me la diminuisce e potete dedicare la vostra vittoria del torneo a lei. Vabbè, questa volta non è che ho fatto granché perché non ho una grande abilità di persuasione. Ok, questa missione qui, chiamiamola così, è abbastanza curiosa, in pratica vi fa diventare il mercenario di regno, insomma di un regno del quale vi fanno la proposta. Potete accettare così il regno vi paga per sostenimento del vostro esercito ma la paga è diciamo così quasi misera, è quasi niente, però è sempre meglio di niente. In più avete la possibilità di attaccare i nemici di questo regno che vi dà un bottino in più, perché così almeno poi quando smettete di servire questo regno i vostri rapporti con l'altro regno vi torneranno a zero. Oppure potete anche rifiutare, se avete altre domande c'è questa schermina qui, questa scelta qui che in pratica chiedete delle spiegazioni e potete scegliere diverse cose. Io accetto perché questa cosa mi interessa e quindi sarò pagato e allora posso anche avere possibilità di aumentare i rapporti con alcuni lord di questo regno e quindi guadagnarmi anche la fama e successivamente potrò sicuramente prendere, cioè tra poco forse magari anche quando finisce questo mese di servizio che ho fatto il contratto parlerò al re di questo regno e secondo me sicuramente mi farà fare il giuramento e quindi mi farà giungere tra i suoi lord. Mi darà un villaggio e niente avrò un re di età fissa. Poi più in là vi farò vedere queste cose quando avrò un castello o un villaggio tutto mio Bene direi che per questa puntata è tutto, spero il video vi sia piaciuto e vi sia stato soprattutto utile mettete il mi piace se è così, il non mi piace se non vi è stato utile o se lo avete trovato noioso o cose del genere però ogni non mi piace come dicevo già prima vorrei che me lo commentaste perché voglio sapere dove sbaglio e migliorare il mio canale. Mi raccomando iscrivetevi, mi farebbe molto piacere e datemi dei suggerimenti su come migliorare il mio canale. Grazie a tutti, ci vediamo alla prossima